E poi certamente tutto ciò era attraversato da una feroce contraddizione che era appunto il fatto che non era possibile il ricambio politico a livello nazionale. E che questo ha provocato sostanzialmente la nascita del terrorismo, tanto come stragi di Stato, o meglio stragi determinate dalla volontà di qualcuno di tenere lontani i comunisti dal potere, anche se probabilmente questa evenienza non era un'evenienza verosimile, tuttavia parve verosimile a qualcuno, questo qualcuno oggi da una parte e dall'altra il terrorismo delle BR, di tutto ciò che si muoveva all'estrema sinistra, che aveva buon gioco a sostenere che il paese era bloccato, che non di democrazia si trattava, ma di bieco comendo del capitale monopolistico imperialistico. La nostra democrazia sopravvisse formalmente a questo, nel senso che la lotta militare non ci fu, cioè l'Italia fu in grado di conservare la propria legittimità unitaria, cioè non riconobbe le BR come nemico interno, che era la richiesta politica di fondo delle BR, il riconoscimento dello status di nemici, che vuol dire che quando si cattura un nemico lo si mette in un campo di concentramento e lo sia sotto la supervisione della Croce Rossa. E lo Stato italiano continuò a dire che le BR non erano nemici, ma erano criminali e che se catturati non finivano in campo di concentramento, ma finivano in galera. E questo avvenne. E tuttavia le BR ebbero la loro vittoria, che fu l'inizio della loro fine, la loro vittoria dell'uccisione di Moro, da cui è uscito tutto quello che è uscito, cioè la fine di un disegno politico e la stagnazione, la lunga stagnazione degli anni Ottanta, che fu per l'appunto la fine della legittimità della Prima Repubblica, la fine della legittimità democratica, non essendo finita la legittimità economica nessuno se ne accorse, o meglio, a nessuno importò. Le ragioni, diciamo così, etico-politiche e costituzionali della nostra coesistenza si smorzarono in questa lunga vacanza dalla legge, che furono gli anni Ottanta, in cui anche il partito che dirigeva la politica italiana, la DC, perdette la propria legittimità, che era quella di comandare per far funzionare l'Italia, e che diventò comandare e basta, per mettere a tacere ogni forma di protesta, il debito pubblico esplose. Noi ci portiamo dietro un debito pubblico mostruoso, che è sostanzialmente generato negli anni Ottanta, pur di non fare nulla ci siamo indebitati, pur di non fare riforme, pur di dire che bisognava fare la grande riforma e non farla, ci siamo indebitati fino a chissà quando. E lì è nata l'antipolitica, cioè la fine della legittimità politica. E lì è nata l'antipolitica, l'antipolitica che esplode nel biegno di Mani Pulite, perché solo quello fu, ahimè, quel biegno, non una riscossa etica, non un nuovo impulso verso la legalità, ma soltanto un accesso di rabbia nei confronti di un ceto politico che tutti sapevamo essere sostanzialmente inerte e corrotto. Ma rabbia, null'altro, e con la rabbia non si fa nulla. Infatti quella crisi biennale fu la fine della legittimità democratica in questo Paese, ma non fu l'inizio di nulla, o meglio, fu l'inizio di qualche cosa di nuovo che però mandò immediatamente messaggi di rassicurazione. Cioè, attenzione, io non sono nuovo, anzi vi difendo da ogni possibile novità. E soprattutto vi difendo dalla terribile novità che potrebbe essere il fatto che i comunisti vadano al governo. E voi, vi difendo in modo nuovo, ma sono la continuità con la tradizione. E tutto ciò ha funzionato benissimo. Naturalmente, nel senso che questo nuovo soggetto politico ha preso esattamente i voti che prima andavano alla democrazia cristiana. Con la differenza, e questa è la differenza di legittimità, che fa la quarta grande famiglia di legittimità, con la differenza che la democrazia... ...istituzionale. L'ADC era un partito antifascista, che poi magari si pagava ogni tanto qualche fascista per prendersi qualche voto in Parlamento, ma era un partito antifascista ed era un partito democratico. ma prendeva voti da strati della popolazione che non erano fascisti e antidemocratici, ma erano allo stesso titolo afascisti e ademocratici. E dunque faceva una politica democratica, moderata ma democratica. Ecco, ora quei voti vengono presi dagli stessi ceti e vengono inseriti in un contesto diverso. Noi oggi siamo davanti ad un continuo tentativo di rifare la Costituzione. Ma non rifarla nei dettagli, rifarla nei suoi orientamenti fondamentali. Tutto ciò viene fatto passare per liberale, naturalmente non lo è, non è questo il punto, non vi è nulla di liberale nel tentativo di distruggere la nostra Costituzione, che è liberale. Tutto ciò viene fatto passare per difesa dell'individuo nei confronti della supremazia dello Stato sull'individuo, oppure difesa del mercato nei confronti della supremazia, delle leggi e della dimensione pubblica nei confronti del privato. Tutto ciò viene fatto passare come difesa del principio della presunzione di innocenza nei confronti della presunzione di colpevolezza che animerebbe l'azione della magistratura. Il risultato è che in questo momento noi non abbiamo una legittimità costituzionale operante, abbiamo una legittimità costituzionale residuale, cioè vi sono ancora, siccome la nostra è una Costituzione molto ben fatta e molto difficile da smantellare, vi sono ancora alcune figure di difesa della Costituzione. Dal capo dello Stato alla Corte Costituzionale, evidentemente. Ma i portatori di massa della legittimità costituzionale non ci sono più, perché non ci sono più i partiti tradizionali, cioè i partiti che hanno fatto la Costituzione non ce n'è rimasto al mondo neanche uno, se ci pensate. Il partito più vecchio che c'è in Italia oggi è la Lega. E non c'è più sicuramente la spinta propulsiva della democrazia come fondamento della nostra coesistenza. La nostra coesistenza oggi non si sa bene su che cosa si fondi, ma anzi, si fonda su pulsioni, chiamiamoli valori, diversi a seconda della collocazione geografica, il che non era mai successo. Per cui vi sono ampie zone, le zone, non dirò più fortunate, perché non si tratta di fortuna, più ricche del Paese, che hanno di fatto secceduto moralmente dalla Costituzione e agiscono sulla base del principio di sicurezza e del principio di omogeneità. Per cui si riduce lo spazio pubblico, aumenta lo spazio privato. Di una privatezza garantita, costruita, castelli, isole, fortezze, spazi abitati da uguali, da simili, da omogenei, che si devono difendere da altri, diversi, eterogenei. Se la dimensione pubblica non mi difende, sceglierò una dimensione privata. Se la dimensione pubblica mi mescola, sceglierò una dimensione privata. Non vi è, dunque, una legittimità universale, ma tante legittimità a isola. Mentre nell'Italia meridionale si formano, ahimè, nuove legittimità, che nuove non sono, ma è nuovo il loro peso strategico, legittimità dell'antistato, della grande criminalità organizzata che condiziona pesantemente la vita quotidiana di tantissimi onesti che però devono fare i conti pena la sopravvivenza, essendo in gioco la sopravvivenza, devono fare i conti non con le architetture dello Stato, non devono fare i conti con il signor prefetto, il signor questore, con l'intendenza di finanza. Questi non sono problemi. I problemi sono fare i conti con la malavita organizzata. Naturalmente lì ci sono anche le grandi risposte etico-politiche che rilanciano l'idea dello Stato e dello Stato democratico. come anche nelle regioni ricche vi sono gli anticorpi per la deriva verso l'infinita frammentazione. Ma il fatto è che se passiamo dalla legittimità istituzionale alla legittimità materiale noi assistiamo anche alla scomparsa del compromesso social-democratico. Non è cambiato soltanto il quadro di riferimento ideale, normativo, non sono cambiati soltanto i portatori della politica cioè i partiti ma è cambiato anche la legittimità materiale. Oggi quello che non funziona più è lo Stato sociale, le forme di integrazione tipiche dello Stato sociale, le forme di ridistribuzione del benessere tipiche dello Stato sociale non funziona più il compromesso social-democratico perché non è più vero che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro perché il lavoro ha perduto la propria centralità politica tanto che la sentenza che qui a Torino è stata emessa qualche giorno fa sul caso Thyssen è una sentenza tra il meraviglioso e il clamoroso che da tutti è stata saluta da tanti è stata salutata come una possibile un possibile momento di inversione di un trend che dura ormai da 30 anni sostanzialmente che vede la marginalizzazione del lavoro e invece il passaggio sulla scena in primo piano del capitale e del profitto e questa scomparsa della centralità del lavoro fenomeno noto a chiunque sia stato licenziato e a un giovane che non trovi lavoro o che trovi soltanto lavoro parziale lavoro part time lavoro subalterno lavoro indifeso questo fenomeno è un fenomeno politico di primo ordine perché fa perdere la legittimità materiale della Repubblica oggi quale legittimità noi la Repubblica italiana conosce non è nemmeno vero che conosca la legittimità del mercato non si può nemmeno dire che la nostra Repubblica sia oggi fondata sulla centralità del mercato questa è un'affermazione ideologica di una parte politica che mentre i veri soggetti del mercato gli imprenditori sono pesantemente critici nei confronti della politica attuale non si può nemmeno dire che sia una Repubblica fondata la nostra legittimità sia fondata sull'individualismo come pure l'ideologia dominante prevede afferma perché ciò che emerge nella società di oggi non è l'individuo come a tutti evidente se vi è una spinta verso l'omogeneizzazione la serializzazione la massificazione lo spegnimento di ogni qualità individuale e vi è una nuova legittimità dopo tutto soltanto esteriore e tuttavia nella sua esteriorità assolutamente centrale che determina tutte le altre ed è la legittimità populista che sia chiaro non è la legittimità democratica la legittimità populista è una legittimità plebiscitaria assolutamente superficiale mentre una legittimità plebiscitaria e carismatica è una è una legittimità rivoluzionaria la nostra è una legittimità plebiscitaria inerte ed è una nuova figura della legittimità plebiscitaria per far nulla plebiscito che serve soltanto a un effetto spettacolo non a un effetto pratico naturalmente dentro questo effetto spettacolo nella nullità nella inefficacia dell'effetto spettacolo capitano un mucchio di cose importanti evidentemente distruzione del welfare distruzione della scuola pubblica distruzione di ogni tipo di capacità della società di produrre cultura distruzione del futuro dei giovani ma come dire capitano tutte per default per venir meno di qualche cosa un venir meno previsto e calcolato eppure non messo come primo obiettivo il primo obiettivo è la creazione di una unità populistica sostanzialmente tautologica che vuole se stessa e null'altro e naturalmente non vuole magistrati comunisti e tutto quello che noi sappiamo che vuol dire sostanzialmente non vuole elite non vuole alcuna forma di competenza non vuole alcuna regola non vuole l'elemento normativo vuole politica senza norme ovvero sia giungla però senza dirlo però senza dirlo per cui un fenomeno curioso un populismo inerte da una parte estremamente loquace magniloquente molto aggressivo verbalmente dall'altra assolutamente silente sulla propria vera capacità di trasformazione del paese elemento fortemente unitario sotto il profilo simbolico il popolo e a cui si accompagna sotto il profilo materiale la infinita frammentazione della società questo non è democrazia ma non è nemmeno trionfo del mercato il mercato vuole qualcosa di un po' più efficiente e razionale come minimo è una cosa nuova l'Italia sta creando qualche cosa di nuovo tranne che non sia semplicemente una forma questa legittimità una forma terminale di decomposizione di qualche cosa di vecchio e questo naturalmente sta anche a noi determinarlo con la nostra libera scelta al momento del voto grazie per l'attenzione grazie